Per me Milano, se fosse una composizione, mi viene in mente per Duke Ellington New York City Blues, proprio perché traduce quel senso di grandiosità. New York è stata una fonte di ispirazione di Duke Ellington per molte sue composizioni. Da lì ha tirato fuori suoni, colori, ritmi. Suonare in un luogo come le Gallerie d'Italia a Milano è un'esperienza importante perché sei immerso nella storia e nello stesso tempo però sei parte di un futuro, quindi passato, presente e futuro si intersecano anche nel momento dell'esecuzione. È altrettanto importante il fatto che il pubblico possa avvicinarsi a sentire anche dei repertori non usuali. Ascoltare musica in un luogo così bello come le Gallerie d'Italia è veramente un'occasione da non perdere. È molto particolare ascoltare musica in posti come questo, proprio perché sono posti adibiti a mostrare altri tipi di arte. Ma un concerto su Duke Ellington nelle Gallerie d'Italia è stata un'esperienza fantastica. Grazie.